Come sta la squadra? Purtroppo è stato il filo conduttore di queste due settimane, abbiamo pagato un dazio troppo importante con tre infortunati e con le rispettive nazionali e poi in qualche modo fra il passaggio di stagione che si è portato qualche influenza e qualche acciacco abbiamo parecchi altri giocatori che o non sono a disposizione o sono a disposizione solo per un minuto. Un minutaggio piccolo, relativo che porterò via cercando di sfruttare tutte le eventuali possibilità, però insomma detto questo andremo in campo in 11. La Lazio è una squadra che gioca solitamente con il 4-3-3, rivedremo lo Spezia con i correttivi tattici già visti con Sassuolo e Napoli. Qualcosa sì, qualcosa come concetto, come idea di sicuro, però poi essendo diversi gli interpreti rispetto a quelle partite è ovvio che devo fare anche degli altri ragionamenti per cercare di far fare ai nostri giocatori quello che sanno fare meglio. Si può dire che non seguendo Sarri alla Juve la scelta del tecnico toscano le ha involontariamente aperto un portone perché lei così poteva rispondere a Pozzo ed iniziare un'altra vita calcistica? Insomma è la vita che è così, è la vita che è sorprendente e non sempre accade una cosa che ti sembra negativa e magari invece è un evento positivo o viceversa e quindi è difficile dire cosa sia bene, cosa è male. Adesso in questi anni la storia è cambiata in questa direzione che lei ha detto, anche questo non è detto che sia un bene in assoluto, non lo so. Tornando alla squadra, in merito a Bastoni, ha mai valutato di rimetterlo nel ruolo in cui è esploso in Serie A, ovvero quello di esterno, sinistro, da quarto o da quinto? Sì, sì, è una cosa che valuto in continuazione, però mi dispiace, mi dispiacerebbe toglierlo da un posto dove sta facendo molto bene. Ellertson può essere un'opzione dall'inizio e visto l'infortunio di Rezza, Bastoni è l'opzione più naturale per sostituirlo o anche altre idee, ad esempio Ekdal? E come sta Ekdal? Ekdal è cresciuto e si è avvicinato molto a una condizione che gli possa permettere di avere un certo minutaggio anche in una partita di Serie A. Su Ellertson ho già speso in altre situazioni delle parole molto buone che sono la mia valutazione su di lui. Lui è un ragazzo che, a mio giudizio, continua a crescere, è un eclettico che quindi può essere probabilmente adattato con successo in diverse parti del campo e di sicuro lo prendo in considerazione. Tornando alla partita con la Lazio, secondo lei ha i numeri per vincere lo Scudetto? La Lazio ha di sicuro alcuni giocatori di primo livello, fortissimi del campionato di Serie A, anche se probabilmente sulla carta sembrerebbe che ci siano delle squadre forse più attrezzate, nell'ottica del lungo termine, nell'ottica delle 38 partite, con le coppe, però questa valutazione l'abbiamo fatta l'anno fatta, l'anno fatta praticamente tutti gli addetti ai lavori e anche l'anno scorso con il Milan. Poi ci sono dei crocevia durante il campionato significativi, in positivo e in negativo, dentro lo spogliatoio e nel gruppo si creano delle dinamiche che fanno moltiplicare gli aspetti, sia in positivo sia in negativo. Quindi non so cosa saranno gli accadimenti nel corso del campionato, di sicuro la Lazio ha una struttura di alto livello. Come sappiamo sarà, è un campionato atipico, state facendo una tabella per avere un riferimento da qui alla sosta per il Mondiale? Adesso non è più tempo di tabelle, perché adesso, fatta questa sosta per la Nazionale, ci aspettano otto partite tutte d'un fiato fino al 13 novembre, nel caso nostro saranno nove con una partita di Coppa Italia e quindi non ci sono più tabelle, c'è da giocare. Poi, chiaro che abbiamo già predisposto quel periodo di latenza dal campionato mentre si svolgerà il Mondiale per pensare al miglior percorso da far fare alla squadra e presentarsi poi nelle successive 23 partite. Infine, una curiosità da ex tecnico friulano, i nazionali dietro a Donna Rumma sono stati convocati tre portieri cresciuti nell'Udinese o comunque che non hanno proseguito la carriera nell'Udinese. Come analizza questa situazione? Allora, intanto c'è da dire che per una serie di motivi, in quella società sono cresciuti e sono usciti tanti portieri forti, non solo loro tre, ma ce ne sono anche altri, Scuffet, Perisan, sono tutti più o meno nati fra 94 e 97. L'Udinese forse è una società particolare, però comunque è un ruolo dove più degli altri, dove la maturazione magari, Donna Rumma da questo punto di vista è l'eccezione che conferma la regola, perché i portieri normalmente maturano con un tempo un po' di ritardo, soprattutto nelle pressioni italiane per l'alto altissimo livello, quindi non è sempre facile con ragazzi giovani individuare chi potrà essere un portiere di grande livello. L'Udinese non li ha persi tutti, Meret è stato venduto, insomma sono state fatte delle scelte, anche perché in concomitanza c'erano appunto insieme, che ne so, negli allievi tu hai tre portieri e tutti e tre arriveranno in serie A, fatichi a credere a una cosa del genere, però nel caso dell'Udinese è successo. Una cosa che mi piace segnalare, allora da un lato la bravura della filiera dei portieri di quella società, fin dai piccoli ci sono delle persone, degli istruttori estremamente competenti e mano a mano che i ragazzi crescono, trovano persone di altrettanta competenza che li accoglie e riesce a implementare il percorso, ma tutti i nomi dei ragazzi che le ho fatto, a partire dai tre convocati nazionali ma anche gli altri nomi che ho fatto, non sono solo ottimi portieri, la particolarità è che sono dei ragazzi splendidi. Grazie.